Il viaggio inizia dallo stand dedicato alla struttura del libro. Il lettore legge le istruzioni per il gioco che trova sul manifesto e che gli vengono consegnate da Luigi Quattrocchi, di mestiere redattore. I ragazzi si mettono all'opera per completare il puzzle che spiegherà loro i segreti della redazione, ovvero come è fatto un libro. Impareranno che cosa sono il frontespizio e il dorso, cosa sta scritto nella quarta ricopertina, a cosa serve l'indice, dove si trova il prezzo. Dopo il lavoro di gruppo ognuno di loro utilizzando i materiali e gli strumenti forniti dallo stand potrà autonomamente rispondere alle domande poste nella guida. Da ora in poi, quando si troveranno di fronte a un libro, sapranno come orientarsi e dove trovare le informazioni che cercano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.